Se avete con voi la Bibbia, la potete aprire insieme a me, nel libro di Giovanni, il capitolo è il 20, leggeremo alcuni versi, alleluia, siete felici di essere nella casa del Signore? Alleluia, siete allegri di essere nella casa del Signore? Io fui allegro quando mi è stato detto, andiamo nella casa del Signore. Alleluia, è il miglior luogo di Catania, non lo dite a nessuno. Verso 1 e il verso 2 dice così, Saltiamo al verso 11. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'una al capo e l'altra ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Ella rispose loro, perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e Dio lo prenderò. E Gesù le disse, Maria. Ed ella voltato, si disse, Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse, non toccarmi perché non sono ancora salita al Padre mio, ma vai dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio, al Padre vostro, all'Idio mio e all'Idio vostro. Amen. Vi potete accomodare. Voglio dare un titolo, che è un pochino lungo, quindi non lo so per chi lo scrive se ci arriverà a scriverlo tutto questo. Quattro errori che ha commesso Maria Maddalena e che spesse volte commettiamo anche noi. Maria Maddalena andò lì nella tomba, lì nel sepolcro. E la cosa che si aspettava è che il sepolcro era chiuso. Era scontato per lei che quel sepolcro era chiuso. Al resto se voi andate in un cimitero è scontato che voi trovate la tomba chiusa. Ma lei andò lì a trovare Gesù morto. E la cosa più scontata che poteva avere è trovare la porta chiusa, ma in quell'istante lei fu scoinvolta perché non vide la porta chiusa, la tomba chiusa, la trovò aperta. Spesse volte noi facciamo l'errore e spesse volte ci sono quei credenti, come al tempo di Israele, io li chiamo quei credenti che non credono. Sembra una contraddizione ma è così, ci sono credenti che non credono. Credenti che credono che quella porta sia sempre chiusa. E vanno lì credendo che la porta sia chiusa. E stanno lì a pensare sempre che la porta è chiusa. Ma grazie a Dio la porta, la tomba non è chiusa. Alleluia, spesse volte noi pensiamo che le porte siano chiuse, qualsiasi cosa accade nella nostra vita abbiamo una visione pessimistica, una visione sempre che guarda le cose del male, che pensa sempre al cosa del male. La Bibbia dice una cosa importante, ciò che temi quello ti accade. Quindi noi non dobbiamo temere nessun male, non dobbiamo partire col principio che la cosa andrà male, che la porta sarà chiusa. Se stai pregando per la tua guarigione, non pensare che la tua porta è chiusa. Pensa che la porta è aperta, alleluia. Se stai pregando per un lavoro, non pensare che le porte sono chiuse, ma stupisciti perché le porte saranno aperte, alleluia. Non pensare mai che la porta è automaticamente chiusa, perché con Gesù ogni pensiero umano svanisce. Alleluia, ogni pensiero umano svanisce perché Dio ci vuole sempre sorprendere. Alleluia, non dobbiamo stare lì a piangere e dire tutte le porte sono chiuse, qualsiasi cosa faccio è chiusa. Quel mio pensiero, io vedo che c'è una porta chiusa, ma in questa sera Dio vuole dirti non fare l'errore di aspettarti una porta chiusa, ma aspettati una porta aperta, alleluia. una tomba aperta, Apocalisse 3.8 dice io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta. Alleluia, una porta aperta e sapete quando Dio apre una porta dice che nessuno può chiudere. Non importa se la società di oggi dice che quella porta è chiusa, non importa cosa ti dicono gli altri, troverai la porta chiusa, ma tu devi credere che Gesù ha la chiave. Gesù stesso ha detto io ho la chiave e se io apro nessuno può chiudere, se io chiudo nessuno può aprire, alleluia. E in questa sera noi vogliamo vedere le porte del cielo aperte, vogliamo vedere l'opera di Dio aperta, vogliamo vedere le risposte di Dio che non sono porte chiuse, ma sono porte aperte, alleluia. Alleluia, non facciamo l'errore di Maria di aspettarci una porta chiusa, ma aspettiamoci una porta aperta. Non stiamo lì a piagnucolare, a pensare sempre in maniera pessima, ma crediamo con fede. L'Apostolo Paolo poteva dire io so in chi ho creduto, alleluia. Io mi aspetto delle cose grandi perché servo un Dio grande, alleluia. Quando lei andò lì nella tomba, la prima cosa rimase stupita, la porta, la tomba era aperta. E l'altra cosa che lei si aspettava è di aspettarsi un Gesù senza potere, perché lei era lì venuta per imbalsamare quel corpo. Lei era venuta a imbalsamare quel corpo che aveva guarito, quel corpo che aveva fatto potenti operazioni, quel corpo che aveva guarito il cieco, lo zoppo. E spesse volte noi facciamo questo errore, di credere in un Gesù senza potere. Dice la scrittura che se noi abbiamo un monte e noi preghiamo senza dubitare nel nostro cuore e diciamo al monte spostati e gettati, questo lo farà, alleluia. Noi serviamo un Dio potente, Gesù non è più nella tomba, Gesù non è un corpo in anime, Gesù non è un corpo che è senza potere. Quando noi preghiamo, perché spesse volte quando si prega non si crede nella potenza di Dio. Quando noi preghiamo, noi dobbiamo credere che il Dio che noi serviamo può fare ogni cosa. Noi non serviamo un Dio senza potere, non ci sono situazioni superiori al nostro Dio. Alleluia! Non ci sono problemi superiori al nostro Dio, non ci sono problemi che Lui non può risolvere, ma Lui è al di sopra di ogni cosa. Alleluia! Alleluia! C'è un detto evangelico che dice non dire quanto sono grandi i tuoi problemi a Dio, ma dire ai tuoi problemi quanto è grande il tuo Dio. Alleluia! 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 Non devi dire ai tuoi problemi a Dio, oh Signore, ho grandi problemi, ma devi dire ai tuoi problemi, oh io ho un grande Dio. Alleluia! Quando noi cantiamo determinati canti dobbiamo credere in quello che noi cantiamo. Noi non cantiamo tanto per cantare, noi cantiamo perché crediamo in quello che noi cantiamo. E quando cantiamo serviamo il grande Dio. Alleluia! Noi ci crediamo che noi serviamo un Dio con ogni potenza. difatti Gesù stesso ha detto in Matteo 18, 18, Gesù si avvicinò a loro e disse ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra. Che significa ogni cosa che accade sulla terra e sul cielo è sotto il suo potere. Dio non perde mai il controllo della situazione. Dio non perde mai la sua potenza. Oggi spesse volte si chiedono alcuni ma perché non accadono così tanti miracoli? Perché? Perché non si crede più nella potenza di Dio. Sapete ci dice la scrittura un qualcosa di interessante. Gesù una volta la parola di Dio ce lo dice a Capernaum non poteva fare potenti operazioni. Perché forse la sua potenza era diminuita? Non ha fatto. Perché lui era più debole? Non ha fatto. Dice a causa della loro incredulità. Oggi la gente non crede quasi mai più nella potenza di Dio ma noi in questa sera vogliamo credere che noi serviamo alleluia l'Onnipotente di fatti Apocalisse 1.8 Giovanni lo vide alleluia Giovanni lo vide Gesù e dice egli aveva una fiamma nei suoi occhi una spada nella sua mano cavalcava un cavallo bianco sulla coscia aveva scritto il re del re il signore dei signori e poi lo stesso Gesù in Apocalisse 1.8 dice io sono colui che è e che ha da venire l'Onnipotente alleluia l'Onnipotente significa che egli può fare ogni cosa il Dio che noi serviamo non 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 che lui col passare degli anni diventa più debole diventa più vecchio lui non è sottoposto a vecchiaia lo sapete spesse volte molte volte viene ripreso Dio con una lunga barba vecchio ci manca poco e mettono anche un bastone che lì che strascica il piede il nostro Dio che noi serviamo è colui che ha detto sia la luce e la luce fu non facciamo l'errore che fece Maria di pensare di trovare un Gesù senza potere noi serviamo il Gesù che è resuscitato dai morti e che ancora ha podestà in cielo e in terra alleluia l'altro errore che fece Maria fu quello di confondere Gesù con l'ortolano e spesse volte noi confondiamo le situazioni della vita il caso con Gesù lei andò lì c'era Gesù lì davanti c'era la risposta davanti ai suoi occhi e lei non riusciva a vederla e diceva diceva all'ortolano che era Gesù e dice se l'hai portato via dimmelo dove e l'ortolano gli diceva perché stai piangendo cosa cerchi io lo volevo dire sono io alleluia e spesse volte noi non vediamo le risposte di Dio quando li vediamo come se non ci crediamo vediamo che la chiesa primitiva stava pregando per Pietro che era in carcere stava pregando stavano digiunando erano lì in preghiera e sapete c'è sempre la sorellina sempre che quando c'è la preghiera corre e vede allora bussò alla porta Pietro e quella sorellina guardò e vede che era Pietro era così felice era così contenta che andò dai fratelli e gli disse c'è qui nella porta Pietro c'è qui fuori la porta Pietro loro avevano la risposta e sapete quelli che cosa dicevano tu vaneggi sei pazza forse è lo spirito di Pietro alleluia e Pietro era lì fuori che bussava e loro stavano pregando per Pietro quante volte noi preghiamo per una risposta e Dio da questo pulpito ti ha dato le risposte tu non le hai comprese tu non le hai capite perché hai confuso con l'ortolano e non è un caso che tu ti trovi qui non è un lortolano alleluia ma è solo esclusivamente perché Gesù ha qualcosa da dirti è perché Gesù vuole darti una risposta è perché Gesù vuole parlarti alleluia non è un caso tutto quello che accade nella tua vita anche le cose negative spesse volte noi pensiamo che le cose negative vengono sempre dal maligno ma non è sempre così anche se venissero dal maligno sappiate una cosa che Dio sempre ha un piano per ognuno di noi Romani 8,28 dice una cosa importante tutte le cose tutte le cose non dice solo le cose positive cooperano al bene ma tutte le cose cooperano al bene sia le cose positive che le cose negative qua avete avuto una sessione si può dire sulla vita di Giuseppe e avete visto quante cose negative ci sono accadute nella sua vita eppure Dio ha trasformato ogni cosa negativa per il suo bene e Giuseppe senza conoscere Romani 8,28 dice ai suoi fratelli voi avete cercato di farmi del male e ogni cosa che voi avete cercato di farmi del male Dio lo ha rivoltato in bene non è un caso qualsiasi cosa accade nella tua vita non è un caso che ti trovi in questa chiesa non è un caso che sta ascoltando questo sermone non è un caso alleluia nulla ma è solo per volontà divina è solo perché Dio ha un piano e in questa sera Dio ti sta rispondendo attraverso la sua parola lui ti sta rispondendo attraverso la sua parola non confondere l'ortolano con Gesù è Gesù che sta parlando alleluia è Gesù che ti sta parlando non fare l'errore di confondere il caso con Gesù qualsiasi cosa accade nella tua vita di negativo anche glorifica il nome di Gesù di grazie Gesù alleluia perché so che non è un caso ci sei tu so che non è l'ortolano ma sei tu Gesù e l'ultimo errore che Maria Maddalena aveva fatto qualcuno dice finalmente è arrivata all'ultimo non è detto lei pensava che Gesù era morto quante volte pensiamo ma io non lo penso mai penso che no spesse volte noi lo pensiamo che Gesù è morto quante volte noi abbiamo pregato per una determinata situazione e la situazione al posto di migliorare è peggiorata capitato a me amene quante volte avete pregato per qualcosa e sembra che Gesù non ci sta ascoltando sembra che Gesù non si sta occupando di noi mi sembra di vedere per un attimo Gesù nella barca con i suoi discepoli c'è una tempesta seria la barca imbarcava dell'acqua i discepoli si sentivano disperati e morti e Gesù cosa faceva nella barca dormiva quante volte noi preghiamo siamo il rischio di morte passiamo delle prove passiamo delle tempeste e sembra attenzione sembra che Gesù è morto che Gesù sta dormendo che Gesù è così impegnato nei suoi fatti nelle sue situazioni che non si sta preoccupando del nostro caso ma non è così difatti i discepoli lo svegliarono gli dissero maestro non ti interessa che noi stiamo morendo e Gesù con calma immaginava Gesù con calma tranquillo oh uomini di poca fede perché state temendo come a dire non ci sono io nella barca perché dobbiamo temere perché dobbiamo avere questo timore se c'è Gesù nella nostra vita alleluia lui non stava dormendo perché scritto nella parola di Dio nel vecchio testamento ora il guardiano di Israele non sonnecchia e non dorme alleluia alleluia Gesù non è che è morto Gesù non è che non si sta interessando della sua situazione c'era un meraviglioso canto che dice quando lui sta in silenzio è perché lui sta lavorando alleluia alleluia lui sta lavorando per le nostre situazioni per le tue situazioni per ogni situazione alleluia e Gesù non è morto è vivente è vivente e se lui è vivente le stesse cose che ha fatto ieri li fa ancora oggi e li farà ancora in eterno alleluia 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 lo stesso Gesù in Apocalisse 1 17 dice non temere io sono il primo e l'ultimo è il vivente io fui morto non pensare mai che Gesù non si sta preoccupando dei tuoi fatti o che Gesù è morto ma dice qua io fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli il Dio che noi serviamo non è alleluia perché molti si chiedono perché non l'ho rappresentato in una croce Gesù noi lo rappresentiamo lì nella croce sofferente perché non c'è più nella croce alleluia l'unica cosa che noi possiamo rappresentare è una tomba vuota perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti ed è vivente alleluia lì Dio che noi serviamo è vivente è reale è potente è vivente io sono vivente per i secoli dei secoli amene e non conclude qua e dice io ho le chiavi dell'ades e della morte come dire io ho la vittoria di ogni cosa nelle mie mani io ho la risposta alla tua preghiera nelle mie mani io non sono morto io non sto dormendo in quel caso stava dicendo Gesù io non sono morto io ho le chiavi io ho la situazione in mano perciò non fare l'errore di Maria di pensare che lui è morto ma pensa un attimino che lui è risorto e lui si sta preoccupando del tuo caso e del mio caso alleluia alleluia quindi non fare gli errori che ha fatto Maria quello di aspettarti sempre le porte chiuse una visione distorta della realtà le porte sempre chiuse le porte sempre chiuse tutto vambale non c'è nulla che mi va bene non ti aspettare mai questo mi sembra di vedere il salmista in quel salmo quando lui vede l'empio che prospera e lui sembra che tutti i problemi ce l'ha lui lui solo ce l'ha tutti i problemi ma poi a un certo punto entra nella casa dell'eterno e contempla la gloria di Dio e si ricorda alleluia che lui stava quasi inciampando quasi inciampando ma non è inciampato ma in questa sera noi non vogliamo avere questa visione distorta noi vogliamo avere una visione diversa che Dio aprirà le porte che sono chiuse non pensare mai che la porta è chiusa ma pensa se poi la trovi chiusa è perché lui l'ha chiusa è perché la sua volontà e devi dire anche se trovi la porta chiusa grazie Gesù perché tu se mi fai chiudere una porta e si dice a Palermo si aprirà sicuramente un portone alleluia signore se tu non vuoi vuol dire che hai una cosa migliore per me non pensare mai non ti aspettare mai porte chiuse ma aspettati sempre porte aperte alleluia non fare l'altro errore di pensare quando tu preghi di pensare un Gesù senza potere un Gesù quasi che non può fare niente può fare solo guarirti forse da una febbre fare solo piccole cose no il nostro Dio è il grande Dio e quando pregate dovete chiedere cose grandi a Dio non vi limitate a chiedere cose piccole a Dio ma quando voi pregate quando noi preghiamo dobbiamo chiedere cose grandi perché dice una cosa fondamentale la parola di Dio Gesù stesso l'ha detto ti sia fatto come tu hai creduto se credi che Gesù ha poco potere lui potrà agire quanto tu credi ma se tu credi che Gesù ha tanto potere che è l'onnipotente lui potrà agire come tu hai creduto alleluia questa sera quanto vuoi credere vuoi credere poco vuoi credere molto dipende da te e in questa sera vogliamo dire Signore io voglio credere io voglio credere io voglio credere che qualsiasi mio problema qualsiasi grande mio problema tu sei più grande di quel problema tu sei più grande di qualsiasi situazione tu sei più grande di qualsiasi risponso dal medico tu sei più grande di qualsiasi cosa possono dire i telegiornali i giornali la radio qualsiasi cosa Signore tu sei più grande lui è più grande lui ha il potere lui ha la potestà e non fare l'errore di non riconoscere Gesù nella tua vita qualsiasi cosa sta accadendo nella tua vita, positiva, negativa è Gesù che te lo sta permettendo perché Gesù ha un piano per la nostra vita spesse volte cantiamo sta facendo il nostro bene, ma quando lo cantiamo dobbiamo porci attenzione e dire sta facendo il nostro bene e in ogni prova che verrà ricorda lui fa sempre il nostro bene e potresti non capire il perché, alleluia e spesse volte Dio non è obbligato a dirci perché perché Dio è Dio, amene spesse volte noi pensiamo che sia Dio il nostro amico è il nostro amico è il nostro fratello perfetto ma Dio è sovrano è un sovrano quando decide qualcosa non ha bisogno di consiglieri Dio disse a Giobbe chi è stato mio consigliere? Dio non ha bisogno quando lui decide qualcosa e qualsiasi cosa fa ricordatevi questo che se un padre terreno che è malvagio sa dare cose buone ai propri figli quanto più il Padre Celeste saprà dare cose buone ad ognuno di voi Gesù fa sempre il tuo bene e non pensare mai che nulla accade per caso qualsiasi cosa accade è solo non è l'ortolano è Gesù e Gesù ti dice perché stai piangendo donna? perché stai piangendo? perché stai piangendo? sono io qua davanti la tua soluzione al tuo problema sono io la risposta ad ogni cosa e non fare l'errore che lui è morto che lui non si sta preoccupando del tuo problema che la tua situazione è morta che non c'è più soluzione al tuo problema una volta accadde questo che Gesù stava andando a casa di Jairo o di Gairo perché sua figlia era molto malata e mentre loro stavano camminando Gesù si fermò perché una donna lo toccò e perse del tempo lì a parlare e poi a un certo punto qualcuno andò all'orecchio di Jairo e gli disse lascia stare in pace il maestro ormai tua figlia è morta la tua situazione è morta non c'è più soluzione non c'è più non c'è più ormai Gesù è inutile che va lì perché ormai è morta ma Gesù voltatosi perché Gesù leggeva i pensieri disse Jairo non temere ma credi solamente alleluia non temere ma credi solamente e in questa sera noi vogliamo non temere ma credere solamente che Gesù Cristo è vivente si sta preoccupando del nostro caso e non importa se è morto alleluia per la scienza per il mondo per qualsiasi cosa noi crediamo che il nostro Dio può risuscitare anche i morti alleluia noi crediamo in un Dio potente in un Dio che non che non conosce la parola limite non conosce la parola impossibile perché anzi ci dice un qualcosa di importante ciò che è impossibile all'uomo è possibile per il nostro Dio alleluia e in questa sera voglio dirvi questo ricordatevi che Lui è risorto Lui è risorto Lui è risorto quindi se Lui è risorto con la sua resurrezione ci ha permesso di poter avere le porte aperte ecco io ho posto davanti a te una porta aperta ci ha permesso visto che Lui è risorto di dirci io ho il potere io sono l'onnipotente alleluia con il fatto che Lui è risorto noi possiamo dire che qualsiasi cosa accade nella nostra vita è perché Lui è sempre accanto a noi Gesù ha detto dice io sarò con voi infine alla fine dell'età presente e per ultimo Lui è risorto per ricordarci che Lui non è più su quella tomba non è più dentro quella tomba ma è risorto dai morti ed è vivente e Lui può operare nella mia e nella tua vita e in questa sera ci vogliamo alzare davanti alla presenza di Dio alleluia Gesù ha detto un qualcosa di importante portate a me i vostri pesi ed io vi darò riposo in questa sera qualsiasi sia il tuo peso Gesù ti ha dato una risposta l'unica cosa che devi fare è portarlo a Gesù e portarlo a Gesù e credere credere solamente alleluia credere solamente credere solamente perché tutto è possibile solo a chi crede e in questa sera tu potrei dire non era l'ortolano era Gesù non era un caso che mi trovo lì quella sera era perché Gesù aveva una risposta da dare alla mia vita era per Gesù ricordarmi vedi che io sono risorto sono vivente sono in mezzo di voi alleluia spesse volte lo cantiamo Gesù è qui presente chiedi quel che vuoi Gesù è qui presente chiedi quel che vuoi chiedi quel che vuoi perché lui ha pagato il prezzo per farti ottenere quello che tu vuoi alleluia e se in questa sera vuoi lo Spirito Santo non pensare oh io questa sera non lo ricevo sono andato tre volte dieci volte all'altare ancora non l'ho ricevuto questa sera la porta è aperta per ricevere lo Spirito Santo alleluia se hai bisogno di una risposta questa sera la porta è aperta per ricevere la tua risposta alleluia questa sera non guardare alla porta chiusa non pensare che automaticamente la tua porta sta parlando agli altri non sta parlando a me no Dio sta parlando a te alleluia a te sta parlando dice no sta parlando a te non avere una visione distorta della vita pessimistica oh tutte cose vanno male ma guarda sempre con la visione di Dio io vedo le porte aperte Dio apposto davanti a me una porta aperta alleluia qualche volta quando si va a evangelizzare dice no ma io qua in quella zona non ci voglio predicare perché una volta non pensare che la porta sarà chiusa ma pensa sempre che la porta potrebbe essere aperta alleluia la porta è aperta l'altare è aperto lo Spirito Santo è qui in mezzo di noi per operare se vuoi lo Spirito Santo l'altare è aperto e lui è pronto a dartelo se vuoi salvezza nella tua vita questa è la sera affinché Gesù avanti ed è questa la parola di Dio già Dio ti ha risposto alleluia già Dio ti ha risposto attraverso la sua parola e non pensare oh chissà quale risposta che Dio ti parlerà chissà in quale maniera Dio parla anche con semplici sospiri e in questa sera Dio vuole usarsi di ognuno di noi per poter parlare ai nostri cuori questa è la sera questa è la sera questa è la sera in cui tu puoi ottenere quello per cui tu stai pregando non piangere donna possiamo dire non piangere uomo perché anche sapete anche gli uomini piangono quando ero piccolo mi ricordo qualcuno mi diceva i maschi i mascole non piangono i maschi non piangono ma non è così anche i maschi piangono Davide pianse quando scrisse quel meraviglioso Salmo 51 pianse alleluia quindi voglio dire le donne sono più facili a piangere questo è vero questo è vero certe volte si trattengono per quanto si trattengono lo guardate negli occhi quegli occhi lucidi e li potete comprendere ma gli uomini resistono ma poi quando sono soli piangono e questa sera voglio dirvi ad ognuno di voi non piangete perché la risposta di Dio è davanti ai vostri occhi è davanti ai tuoi occhi la risposta Gesù già sta rispondendo alla tua preghiera mentre tu stai pregando già Gesù forse stai pregando per il tuo figlio che si è sviato o per una figlia che si è sviata mentre tu forse stai pregando già Dio sta toccando quel cuore forse tu stai pregando per una malattia per un problema salutare mentre tu forse stai pregando già Dio sta operando nella tua vita e ti sta guarendo a te al tuo familiare alleluia forse tu stai pregando per un lavoro mentre tu stai pregando per un lavoro già Dio sta facendo il suo piano per farti ottenere un lavoro alleluia forse tu stai pregando per lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è qui per battezzarti in questa sera in questa sera perché Gesù è risorto Gesù è risorto e non fare degli errori i stessi errori che ha fatto Maria Maddalena ma pensa che in questa sera le porte sono aperte abbiamo cantato che cosa apri il cielo e vi posso dire che qua c'è il cielo aperto alleluia alleluia c'è il cielo aperto l'altare è aperto e l'altare è aperto l'altare è aperto Grazie a tutti.